Grande apertura questa mattina sul lungomare Caracciolo del villaggio Coldiretti che rimarrà con ingresso libero fino a domenica. Oltre 10.000 agricoltori presenti lungo un percorso di un chilometro e mezzo con la possibilità di assaporare menù a 5 euro preparati dagli agri chef contadini. Dalla farina all'olio, dal pomodoro alla mozzarella, protagonisti della tre giorni sono i prodotti genuini della nostra terra. Il villaggio aperto oggi e domani dalle 10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 20 è organizzato in diverse aree, collaboratori per bambini, incontri con esperti ed il più grande mercato a chilometro zero di Campagna Amica con la possibilità di sostenere le aziende colpite dal terremoto acquistando le loro specialità. Alla cerimonia inaugurale erano presenti tra gli altri il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti con il cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco Luigi De Magistris. Siamo davvero orgogliosi di aver organizzato insieme a Coldiretti questo villaggio per tre giorni su uno dei luoghi più belli del mondo che è il nostro lungomare e c'è un connubio bellissimo tra la bellezza naturale, il mare, la terra, donne e uomini che attraverso la terra dimostrano passione, competenza, tradizione, qualità, innovazione e questo è il messaggio anche politico che vuole lanciare Napoli come l'ha fatto con l'acqua, lo fa con la terra, lo fa con i beni comuni, un messaggio forte che coniuga umanità, terra, tradizioni e anche un sud che rappresenta in questo momento un punto di riferimento forte anche in un momento di sbandamento. Dentro la fine della sindacatura vogliamo realizzare un mercato enogastronomico e culturale, un luogo quindi che non è solo vendita ma anche intrattenimento funzionante tutto l'anno quindi anche coperto in un luogo da ristrutturare che vogliamo farlo insieme, c'è la nostra disponibilità, abbiamo già qualche luogo che abbiamo individuato però sceglieremo insieme a Coldiretti che ha detto di voler sostenere insieme a noi questo progetto, questo credo sia molto bello perché mette insieme cultura e terra, prodotti della terra e anche il fatto che stiamo parlando di cultura e questa è una città che si sta riscattando proprio attraverso la cultura.